Io vi do il benvenuto a nome del Centro Studi Donati e farò un breve discorso introduttivo su che cos'è il Centro Donati, di cosa si occupa, chi si rivolge, soprattutto le mie parole sulle rivolte ai giovani e agli universitari in sala. Dopodiché introdurrà invece la conferenza e farà da moderatore Antonio Monachetti, che lo vedete in mezzo tra i nostri due conferenzieri, lui è il responsabile rappresentante qui di Libera e coordinatore per Bologna. Il Centro Donati è un'associazione studentesca che opera ormai da 40 anni a Bologna. Ha come missione principale quella di far incontrare gli studenti universitari con il mondo dell'Africa e in generale del sud del mondo. Per fare l'obiettivo da centrare quello che ci prefigiamo è quello di raccogliere un gruppo di studenti e di fargli fare un'esperienza in Africa nel mese di agosto con un percorso preparativo che inizia da dopo gennaio e attraverso il quale ci si prepara un viaggio di conoscenza nella parte dell'Africa del sud-est. Per chi fosse interessato, qui ci sono un sacco di ragazzi che hanno fatto il viaggio, spero che si fermeranno fuori dove ci sono i banchetti con i libri e voi possiate parlare con loro dell'esperienza diretta di questa cosa. Tra l'altro abbiamo anche l'accompagnatore, quindi insomma occasione d'oro per chi è interessato. Poi abbiamo un laboratorio invece per gli studenti che facciamo, cerchiamo di fare tutti i mesi, anche due volte al mese, insomma il martedì presso un locale che abbiamo in vicolo Luretta e si chiama Officina iCare, chi è interessato sempre può lasciare una mail. Praticamente è un laboratorio in cui cerchiamo di affrontare delle tematiche e di stimolare un attimo in chi partecipa, in tutti noi che ci partecipiamo, una propensione ad attivarsi in prima persona nell'impegno sociale. Quindi chi fosse interessato può lasciare la mail, non lo contatteremo. Bene, ci sono altre attività che portiamo avanti nel corso dell'anno. Una è finita da poco, è una segna di cinema africano in cui diamo spazio a un'arte un po' considerata minore dalle nostre parti che descrive invece benissimo la realtà africana che non è solo quella che si vede a livello mediatico, insomma dai bambini denutriti al documentario con l'eopardo galoppante nella savana. Invece ti portano dentro il quotidiano e ti danno una dimensione dell'Africa molto più precisa e molto meno strana e strana più che altro. Bene, presento un attimo gli ospiti di stasera che sono, allora, all'estremità mia di qua, che è la mano destra, Fabrizio Valletti che è un missionario gesuita ed è impegnato a Scampia da una decina d'anni e appunto dopo Antonio lo introdurrà anche meglio su quella che è la sua attività nello specifico. Poi abbiamo invece Vincenzo Carrozza che è qua di fianco a me, che è l'autore del libro che dà il titolo a questa conferenza, Figli di Boss. Lui è medico, da voci di corridoio anche poeta. Io non ho mai letto niente di suo, però erano tutti emozionati, quindi tutti testimoniano questa natura. Che invece parlerà appunto, diciamo, più dell'aspetto del riscatto che è presente come sottotitolo nel nostro cartellone. Quindi lascio la parola a Antonio e vi ringrazio per essere qua. Buonasera a tutti. Io sono Antonio Monachetti, sono il referente di... qual è il dei due? Il referente di Libera Bologna. Con Padre Valletti dicevamo che è bellissimo vedere così tanta gente, così tanti giovani, partecipare a queste iniziative. Prima di adentrarci nel tema vero della serata mi permetto di presentare l'associazione che rappresento, che è appunto Libera e che nasce ormai una quindicina di anni fa con una raccolta di firme, un milione di firme raccolte in Italia per la modifica della legge Rognoni-La Torre. La legge Rognoni-La Torre prevedeva la confisca dei beni mafiosi, perché si era capito che quello che stava più a cuore era il patrimonio e indebolirli dal punto di vista della ricchezza e di questa percezione di potere che avevano su quei territori era un messaggio che li colpiva al cuore. Però quella legge non bastava, perché una volta che i beni venivano confiscati, poi spesso nell'efficienza del nostro Stato, della nostra amministrazione, venivano lasciati inutilizzati. E questo è un messaggio bestiale che si dava alle popolazioni e ai cittadini di quei territori. A quel punto, con un milione di firme raccolte, si è proposto una modifica alla legge per il riutilizzo sociale. Quei beni che venivano confiscati dovevano tornare alle comunità le quali erano stati tolti. E da lì sono iniziate tutta una serie di esperienze positive, che hanno visto case scout, case accoglienza, che hanno visto scuole, hanno visto i casermi dei carabinieri, hanno visto tante esperienze di utilità sociale e tra queste, forse la più conosciuta per quanto riguarda Libera, è il progetto Libera Terra, che è la gestione da parte di cooperative sociali di tipo B, dei beni, appunto, dei terreni confiscati alle mafie. E questa è un'esperienza che è nata ormai, si celebra nei dieci anni della prima cooperativa, ormai, ed è un'esperienza che all'inizio nasceva nella diffidenza di quel territorio, anche nell'attesa delle famiglie mafiose del posto. Pensate che i terreni che gestisce la Placido Rizzotto sono i terreni di Irina e di Brusca e sono terreni a Corleone. Ovviamente da parte di queste famiglie c'era l'attesa nel fallimento del progetto. Fortunatamente il progetto non è fallito, grazie alla collaborazione di tutti noi, in questo senso la rete, la comunità ampia che queste esperienze di vita mettono in campo, ha dato la forza a queste cooperative di andare avanti anno dopo anno, ha permesso che i prodotti di libera terra venissero commercializzati nella grande distribuzione e in questo modo dando l'opportunità a tutti di conoscerne il valore. Pensate che per il primo raccolto del grano non c'era nessuno disponibile a offrirsi come contoterzista per andare a raccogliere quel grano. Tutti avevano paura delle famiglie mafiose a cui erano stati sottratti quei beni. Non c'erano operai, non c'erano contadini per la potatura, per la raccolta. Adesso dietro la porta della cooperativa c'è una fila di persone incredule che chiede se è vero che mettono in regola i lavoratori e che pagano i contributi. Guardate che dietro questo aspetto, dietro questo cambiamento c'è un po' il nesso e il senso di quello di cui poi parleremo anche stasera. Contaminare un territorio è la funzione che queste esperienze devono avere perché altrimenti da soli noi non possiamo andare da nessuna parte. Diamo una prospettiva al nostro percorso, al nostro cammino solo se insieme riusciamo a contaminarci e riusciamo a introdurre degli elementi dei semi positivi che poi piano piano germogliano e quando germogliano diventano più robusti e più forti. L'esperienza libera a terra è un'esperienza in questo senso. Da dieci anni a questa parte, da quindici anni a questa parte, libera non si è concentrata solo in quello, anche perché non è libera che gestisce i terreni. Libera promuove la nascita di cooperative sociali di tipo B, quindi già il messaggio della cooperativa e della cooperazione e poi dell'inclusione sociale di soggetti svantaggiati. Ma l'esperienza che poi si riallaccerà anche alle testimonianze di vita di questa sera è soprattutto nella quotidianità, in quegli aspetti culturali di formazione, di crescita che accompagnano ciascuno di noi. Guardate, libera non è un'associazione, libera nasce come associazione di associazioni e il significato di questa esperienza sta proprio in una riflessione. Non serviva dopo le stragi antimafia un'altra associazione nel panorama antimafia che si affiancasse alle altre. C'era bisogno di mettere insieme l'esperienza di ciascuno di noi. Ognuno che fosse in parrocchia o che fosse in un'associazione di territorio o che fosse in un partito politico doveva impegnarsi per la promozione della legalità democratica e soprattutto per l'inclusione sociale e per la piena affermazione della nostra carta costituzionale. Il risale a Don Luigi, a vieni via con me, ha detto che la costituzione è il testo antimafia per eccellenza. È vero, perché dentro la nostra carta costituzionale ci sono valori e principi che se applicati permetterebbero a tante persone di vivere un'esistenza libera e dignitosa. In tante parti del nostro paese questa esistenza libera e dignitosa non è concessa. E quindi anche le esperienze di questa sera e i percorsi di vita che racconteremo questa sera devono metterci in sintonia con questo mondo che esiste, che è presente e che ha bisogno dell'aiuto di ciascuno di noi. E se queste esperienze, se le esperienze di Padre Valletti vanno avanti, se le esperienze di Libera Terra vanno avanti è perché possono contare anche sui riflettori accesi di una comunità più larga che siamo noi, che qui a Bologna parliamo proprio di questo. Se non fosse così queste persone, queste esperienze sarebbero sole e rischierebbero di crollare sotto gli effetti criminali da un momento all'altro. Possono, hanno le spalle dritte, hanno le spalle larghe, perché ci siamo noi. Quindi consideriamo il valore della rete come un valore fondamentale del nostro crescere insieme, perché è determinante. Solo così ci possiamo permettere di seminare appunto quei semi di speranza e poi raccoglierne anno dopo anno i frutti. L'esperienza Libera Terra è arrivata ormai al decimo anno con tante cooperative nate in tutta Italia. Padre Valletti ci racconterà della sua che è già qualche anno, nata tanto come preparazione e elaborazione tanto tempo fa, ma che ha già la sua età. Quindi di questo discuteremo stasera. Il titolo della conferenza, così rientro a piedi pari nel nostro tema, è appunto Storie di mafia e di riscatto. E noi questa sera abbiamo Vincenzo Carrozza, che oltre ad essere l'autore del libro è un autore di poesie e magari con quella poi potremmo iniziare a questa serata. E qui perché dentro quel libro c'è un'esperienza di vita, c'è un'esperienza di contatto, di prossimità con quella che è l'esperienza criminale dell'andranchida in questo caso. E da lì, da dentro, se ne è capito il senso e si è avuto la possibilità, che poi il secondo tema è il riscatto e la prospettiva di venirne fuori. Se ci pensate, io non so quanti di voi si ricordano i film i cento passi. Peppino impastato, non so se chi l'ha visto ne ha percepito questo aspetto, quando Giovanni lo racconta, lo racconta così. Era una famiglia mafiosa e Giovanni racconta l'esperienza di una famiglia mafiosa. Peppino, attraverso la poesia e attraverso la sua esperienza di crescita e formazione, ha deciso di dissociarsi da quella esperienza, di distruggere la figura dello zio e del padre. Per quello è stato cacciato di casa e da lì è partito il suo protagonismo, il suo attivismo in quella che era la piccola Cinisi alle porte di Palermo. Io a Vincenzo ovviamente passo il microfono chiedendo di iniziare con una poesia, ma raccontandoci appunto questo, che poi è il tema caldo di questa sera. Questa esperienza a contatto con quei legami, con quei rapporti e anche la prospettiva, il senso e il riscatto che c'è stata dietro la tua esperienza, la tua esperienza di vita. Mi è stato chiesto di iniziare con una poesia, a me fa piacere perché questo è l'ultimo libro, l'ultimo come se ne avessi scritti dieci, il secondo. Tratta di delle persone normali, delle persone che fanno una vita normale, che non hanno contatti con la malavita, che però sono state uccise. Sono medici, sono insegnanti, sono ragazzini ed io faccio parlare direttamente loro. Voglio leggere questa poesia Paolo Rodà, si chiama il ragazzino. Padre e figlio, questo è l'articolo uscito su Repubblica, il 2 novembre, il trafiletto, il 2 novembre del 2004. Padre e figlio, tredicenne, ucciso a colpi di fucile e caricato a pallettoni. Ferito un altro figlio. È successo oggi pomeriggio in un agguato teso nelle campagne della Locride. Le due vittime sono Pasquale Rodà, di 37 anni, e il figlio Paolo, di 13. Il fratello maggiore, Saverio, di 17 anni, è stato ferito di striscio al torace. Guarirà in dieci giorni. L'agguato è avvenuto intorno alle 15 nelle campagne di Bruzzano-Zeffirio. Pasquale Rodà si trovava in auto con i figli. Dopo i primi colpi di fucile, calibro 12 caricato a pallettoni, esplosi mentre il fuoristrada era ancora in movimento, Pasquale e Saverio Rodà sono scesi dall'auto tentando la fuga. Pasquale è stato ucciso, mentre Paolo è riuscito a mettersi al riparo, benché ferito. Obiettivo dell'agguato, secondo gli inquirenti, era Pasquale Rodà, noto alle forze dell'ordine, considerato vicino al cammafioso Speranza Palamara scriva. L'omicidio potrebbe essere legato alla faida di Motticella, una trentina di morti negli ultimi 15 anni. Paolo Rodà, di 13 anni. Tra questi terreni abbandonati ai signori della violenza, che stuprano vite in un vortice di pulizia etnica, imparavo a mungere pecore e capri. Scuola e lavoro a 13 anni. A 13 anni potevo imbracciare un fucile, così pensava il malandrino che ha reciso me, che ha reciso mio padre. Ho nelle orecchie la voce di mia madre, attento al bambino e nessuna antimafia mi ricorda. Attenti al bambino, potevo imbracciare un fucile e nessuna scuola mi ricorda. Era un demonio selvaggio. Tra questi terreni ripudiati imparavo ad essere un pastore, ma sono buoni solo quelli del presepe. Gli altri possono imbracciare un fucile. E nessuna voce mi ricorda, né qui né a Torino, né qui né a Milano una via porta il mio nome. Ricordano i cardi blu, il luogo dove si perse il mio sangue, pietre laviche scheggiate o come lapide. E' rimasta impigliata tra i rovi del sentiero, passandola vedrete. La mia allegria di bambino spensierato. Mi si chiede di raccontare un po' la mia esperienza. Io parlo con una cosa recentissima. Io vivo da qualche anno, sono tornato a vivere in Piemonte dove faccio il chirurgo. Però mi è capitato tre mesi fa di tornare nella mia terra. Una mattina sono andato a prendere così un cappuccino in un bar, un paese vicino al mio. La mia famiglia è molto numerosa, la famiglia originaria è quella di mio padre. Per cui c'è gente che vive nel mio paese, ho cugini vicini, eccetera. Mentre stavo lì, poi in genere amo leggere i giornali, per cui ricompro, leggo il giornale, ho visto, mi sono accorto così, di un motorino con due persone a bordo che mi è venuto proprio incontro. Ho alzato gli occhi. Il primo l'ho riconosciuto ed era un mio primo cugino. Il secondo mi è parso di averlo conosciuto, però non ero così certo. Allora si è fermato, ma ha bussato proprio. Il primo gesto è quello dello sputo a terra. Mi ha sputato, mi ha detto tu sei un pentito. Poi mi ha bussato forte nello specchio e ha continuato con i suoi improperi, chiamandomi in modo inqualificabile. Poi siccome io sono un tipo molto tranquillo, ho acceso la macchinina e me ne sono andato piano piano perché non sapevo cos'altro aspettarmi. Giunta a casa di mia madre, ho raccontato la cosa. Il mio stupore, ma non è stato stupore perché conoscendo l'ambiente non è stato stupore, è che mia madre tentasse di giustificare mio cugino dicendo ma sai, magari lui ti vuole bene, allora vista sta scelta che hai fatto tu, mamma ti rendi conto che non ha alcun diritto di venire da me a fare queste cose. Sì, però insomma da allora mia madre non mi ha telefonato, mi ha telefonato una sola volta da tre mesi per dirmi guarda che è arrivata una bolletta dell'ETR, va bene mamma, grazie. Io non provo a chiamarla perché sto ancora riflettendo. E così è stato per le mie sorelle. Ho una sorella che poi nella mia famiglia sembriamo quasi normali perché le tre mie sorelle sono laureate, una è diplomata, dopo la morte di mio padre insomma abbiamo fatto una vita tranquilla, normale. E però queste mie sorelle, tranne una che abita vicino a me, che abita là in Piemonte, difficilmente mi chiamano, c'è quasi mai. E io so perché, perché ho fatto questo tipo di scelta. Che poi non è una scelta, io non la vedo come una scelta assolutamente coraggiosa, io la vedo come una scelta obbligata, non è una scelta coraggiosa. E questo insomma poi alla fine mi fa riflettere, ho la fortuna insomma di avere una moglie e dei figli che mi sostengono, ci sosteniamo a vicenda in questo percorso. La fortuna di avere un lavoro che mi piace e che mi occupa tanto tempo e mi fa pensare meno a queste cose. È una battaglia sicuramente dura quella dei nostri territori, però bisogna dare dei giudizi netti. Nel senso che non tutto è mafia. In genere diceva Sciascia che a volte nei periodi di recrudescenza, quando venivano uccisi i magistrati, quando succedeva qualcosa di grave, sembrava che ogni siciliano fosse mafioso. Così come sembra che ogni meridionale sia mafioso. Questo non è assolutamente vero. Non sono io che lo dico, ma tante volte lo stesso Don Eugenio Fizzotti, che è il mio padre spirituale, quando sono disperato vado da lui, ho le collo chiave, dice ma no, guarda, stai tranquillo, tu non sei mafioso, ci sono persone per me, ma io lo so perché ho fatto una scuola, eccetera, quindi so che ci sono buona parte, io dico tre quarti delle società meridionali che non hanno una mentalità mafiosa neanche e però vivono in un contesto in cui pochi hanno coraggio, hanno il coraggio di ribellarsi, di fare delle scelte differenti. Allora dall'esterno sembra poi che tutto sia la stessa cosa alla mafia. Bisogna avere il coraggio di dire, di combattere, di dire i nomi, fare i nomi dei mafiosi, dirgli chi sono, cosa fanno, eccetera, ma il coraggio di dire anche che è una società, quella meridionale, che può benissimo alzarsi anche in piedi da solo. Io credo tra l'altro che i più grandi, le persone che hanno contrastato maggiormente le mafie, eccetera, sono meridionali. Basta dire Borsellino, basta dire Falcone, ma non solo questi uomini che hanno, dico, sacrificato loro vita per liberare questi territori, ma ci sono dei nomi di persone sconosciute, alcune delle quali sono qua, che giornalmente nel loro lavoro, nel loro quotidiano, facendo onestamente il loro lavoro, rifiutando accordi sotto banco, rifiutando accordi criminali, combattono le mafie. Diceva Vincenzo giustamente non tutto è mafia, non tutto il mezzogiorno è mafia, fortunatamente le esperienze che abbiamo sono di un forte movimento antimafia che si sviluppa soprattutto dove la mafia nasce e si sviluppa maggiormente. E soprattutto questo ci permette di legarci anche all'esperienza di padre Valletti, perché il non tutto è mafia è un'affermazione corretta. Spesso c'è una zona, diciamo così, grigia, un'ombra, dove vivono i bisogni delle persone e dove si vive la mancanza di una presenza, che spesso è quella di un'amministrazione amica, di percorsi individuati, visibili, che si possono seguire. C'è la prospettiva di fare una scelta. In alcuni ambienti non è chiara questa possibilità. Spesso in quelle realtà si vive con il bisogno e spesso la politica si alimenta di quel bisogno. È necessario mantenere uno stato di bisogno, perché attraverso quello stato di bisogno poi si possono creare quelle rete di clientele che favoriscono alcune esperienze. E queste sono aree, sono realtà particolarmente delicate, in cui l'esperienza come quella di un centro per la formazione di giovani, culturale e per l'avviamento al lavoro, diventa fondamentale. E questa è parte dell'esperienza che Padre Valletti ha costruito. Lui dopo un'esperienza lunghissima qua a Bologna mette i piedi a Napoli in una realtà per nulla simile. E quindi bisogna pensare, analizzare, riflettere e reinventare completamente un sistema di partecipazione in cui nella stessa realtà c'è il bianco e c'è il nero. Ci sono esperienze positive e testimonianze che si scontrano quotidianamente con quella mentalità, con quel approccio culturale. E quindi questa testimonianza chiederei anche a Padre Valletti. Non è vero che non c'è continuità fra Bologna e Napoli, perché io ho portato tutta l'esperienza che vivevo a Bologna proprio a Napoli. Anche perché i problemi, quando si parla di formazione, riguardano proprio il modello che vuoi seguire. E quando a Bologna facevamo un'esperienza che potesse aiutare gli universitari, e qui mi rifaccio pure a Don Contiero, a non essere solamente degli accademici e a rispondere alle pretese accademiche, ma che potessero attraverso esperienze di apertura, completare in qualche modo il loro percorso di studi attraverso il contatto con delle realtà, soprattutto le realtà della sofferenza. Ecco perché io andai per esempio proprio in Tanzania con Don Tullio nell'86, qualcuno non era ancora nato. E devo dire che formare vuol dire formare tutta la persona e non solo la testa. a Napoli, per obbedienza, mandato per fare un'esperienza integrata, dove l'annuncio spirituale, la formazione religiosa potesse incarnarsi anche attraverso una promozione culturale e una testimonianza di sviluppo sociale. Questo era un po' quello che i gesuiti stavano vivendo in molte regioni del mondo. Ecco, ha fatto sì che stando a Scampia una città di 80.000 persone, costruita con un'illusione che già anche altri architetti avevano in altre aree in quegli anni 70-80, pensato che costruendo dei grandi agglomerati che potessero risolvere una specie di socializzazione attraverso un villaggio globale. Ecco, il risultato è che le persone non socializzavano perché venivano tra l'altro in qualche modo deportate dai quartieri già più degradati, tipo forcella, tipo sanità, tipo barra, tipo quartieri spagnoli e trovandosi là senza alcuna aggregazione che potesse fornir loro un'esperienza di relazioni, di amicizia, di rapporti sereni, ha riprodotto in forma macroscopia quella che era la vocazione delinquenziale che già realizzavano in certi altri quartieri. Il problema è enorme e non lo sto a ripresentare perché tra l'altro qualcuno di voi l'ha già sentito molte volte, però ecco, si imponeva una scelta, una scelta che vedeva, data la maggioranza della popolazione del quartiere giovanile, pensate che ci sono cinque scuole medie con altrettanti circoli didattici, cinque istituti superiori che hanno più di 1500 allievi ciascuno, quindi una proporzione giovanile enorme ma con il vuoto di prospettiva perché nel quartiere assoluta mancanza di attività commerciale, attività produttiva e poi ecco anche la città che assorbiva un po' la popolazione del quartiere per alcuni servizi non forniva, sappiamo, la crisi del lavoro nel Napoletano, nella Campania, in tutto il Meridione e quindi ecco anche questi ragazzi che vanno a scuola e devo dire che le scuole sono una realtà importante per il quartiere, però di fatto non avevano prospettiva. In tutto questo discorso bisognava vivere in mezzo alla gente, bisognava essere per la strada con loro e soprattutto andare laddove il grande mercato della droga faceva più vittime, non solo per tutti i consumatori che vengono da fuori quartiere, è molto bassa la percentuale dei giovani o degli abitanti del quartiere che fa consumo di sostanze, vengono da fuori per la facilità di accesso, per le autostrade, per la metropolitana, per tanti altri modi e questi anche a livello di bassa soglia tipo eroina ecco in qualche modo invadono il quartiere e questo per i ragazzi è nascere e crescere in un clima dove l'unico spettacolo è questo l'unico spettacolo è che una volta alla settimana qualcuno muore per overdose e la cosa più drammatica è vedere i bambini che stanno intorno aspettando che arrivi il 118 muti e che poi sanno da dove viene questo veleno, da dove viene questo assassino e viene da quelli che vivono con loro, dai fratelli maggiori, da qualche parente, soprattutto in alcuni lotti, si chiamano lotti perché non è stato dato ancora un nome toponomastico a certi ambienti del quartiere e in alcuni di questi lotti prevale soprattutto questo clima del mercato e con tutta diciamo la gerarchia dal palo a quello che vende, a quello che riscuote, a quello che cala con il cestino dagli appartamenti superiori la roba, le donne che magari hanno i congiunti in carcere che per mantenersi mantengono, fanno il deposito della droga, c'è tutta una gerarchia, c'è tutta una perfetta organizzazione che ora le forze dell'ordine cercano di smantellare attraverso dei blitz, attraverso delle azioni repressive però di fatto la forbice fra consumo e spaccio è una forbice aperta, d'altra parte la conosciamo pure qui a Bologna, a Piazza Verdi e dintorni. E quindi cosa fare? La scelta è stata quella di dedicarsi alla formazione, dedicarsi all'educazione, puntando a vivere la realtà del bambino, del ragazzo che cresce, tenendo conto di tutto il contesto, perché dal contesto dipende se poi questo ragazzo può riscattarsi oppure può essere risucchiato in questa spirale, che è una spirale non solo, diciamo, di guadagno, ma una spirale di violenza, di aggressività. E allora, ecco, già incontrando questi bambini, incontrando questi ragazzi ci si rende conto da dove ha origine la loro aggressività, da dove ha origine il loro sogno, il loro immaginario, quello che magari attraverso la televisione viene molte volte e troppe volte proposto di un modello di consumo, di un modello di affermazione, di un modello di banalità, di superficialità che però illude fa illudere di essere felici, di essere sicuri. Ma alla radice c'è proprio l'insicurezza, e con l'esperienza che io vivo in mezzo a questi ragazzi, anche i più aggressivi, anche quelli che fanno finta di essere dei piccoli boss, di fatto è perché c'è un vuoto in loro, un vuoto che nasce da una famiglia che non esiste. Voi pensate che molte bambine a 13 anni, 14 anni, incominciano a fare i figlioli, che poi dopo il secondo viene dato alla nonna che è molto giovane, 36 anni, 35 anni, e queste ragazze poi cercano altrove qualche altra sistemazione. Questi ragazzi crescono e nascono praticamente senza una figura maschile che possa essere un riferimento serio di confronto, di sicurezza. Credo che la maggior parte delle manifestazioni aggressive che si sviluppano in certi quartieri, anche di ostentazione, di esibizione, nasce proprio dal fatto che non c'è all'interno di queste personalità una gioia, una sicurezza, qualche cosa che li possa rendere felici. Allora ecco che l'educazione parte dalla gioia, deve partire da momenti di gioia, da momenti di confronto, di festa, di aggregazione, dove possano, ecco attraverso la creatività, attraverso la musica, attraverso il teatro, attraverso la lettura. Noi abbiamo messo in piedi l'unica biblioteca che esisteva nel quartiere, partendo proprio dalla lettura dei bambini, leggere giocando e giocare leggendo. E a questo poi si sono aggregati degli insegnanti che portano le loro classi nella nostra piccola biblioteca e che fanno giocare i bambini alla lettura e poi invitano i nostri operatori nelle scuole e invitano per esempio al liceo socio-psicopedagogico perché questi giovani, la maggioranza ragazze che poi faranno la scelta universitaria dell'educazione, della formazione, della sociologia, della psicologia, che possano sperimentare con i più piccoli la passione di educare, la passione di vivere esperienze di gioia. E allora ecco questa proposta, questo percorso educativo è una scommessa. Non lo so. In questi anni la prima preoccupazione era quella di formare i cosiddetti formatori. Ora abbiamo una trentina di giovani laureati e universitari che possono guadagnare qualcosa perché lì il volontariato non è possibile, possono guadagnare qualcosa e si dedicano a progetti educativi, a realizzare con i ragazzi dei percorsi che tra l'altro anche per loro che sono studenti, che magari fanno tessi di laurea. Qui c'è Elisabetta che è venuta a fare la tessi. Dove stai? Ecco, è venuta a fare la tessi a Scampia. Ma diversi vengono a fare tessi a Scampia, qualcuna ci rimane. Ora per esempio abbiamo due giovani, una di Bologna, una di Bergamo, che sono venute. Erano venuti con gli scout a far servizio di animazione nel quartiere, hanno detto bene, veniamo a vivere lì, abbiamo preso un appartamento, stanno insieme, accolgono altri giovani e la scommessa è questa. La scommessa è quella di modificare quello che noi chiamiamo l'immaginario di questi ragazzi e smantellare quei simboli che purtroppo la cultura del consumo, la cultura della banalità, delle veline e di tanti altri modelli oggi influisce e attira questi ragazzi, queste bambine. A parte poi il modello Maradona che ancora è molto forte. Non so com'è andata col Napoli a Bologna. Chi ha vinto? Ha vinto il Napoli. Perché guai a parlare male della squadra di calcio, io devo simulare di essere un tifoso del Napoli per essere accettato prima di altre cose. Perché al posto del cervello entrando nelle famiglie tu vedi che ci sono tre televisori accesi su canali diversi, ma la cosa sorprendente è che vedi le ragazzine che fanno tutti i loro balletti aerobici e simili, perché è l'unica cosa che poi sanno fare e possono fare. Allora portarli fuori, portarli a fare delle gite, a fargli conoscere dei monumenti, a portarli. E qui per esempio, ecco, devo dire che abbiamo fatto anche una scelta, quella di, attraverso un piccolo modello educativo che lo scoutismo ci propone, è nato un gruppo scout, ora abbiamo più di 30 lupetti, abbiamo sei squadriglie fra i 12 e i 15 anni e abbiamo dei giovani che fanno servizio. Ora abbiamo altre esperienze, questa della biblioteca, il teatro, hanno inventato il fotofooting, lo sapevate che esiste il fotofooting? Ah, è bellissimo, perché invece di correre solo con la tuta, si portano macchina fotografica e se nel footing si incontrano delle cose belle d'immagine, si fanno le fotografie, si riportano e poi si descrive, si racconta, sempre fidandosi della fantasia creativa che questi ragazzi hanno e ce l'hanno veramente tanta, un po' perché i ragazzi napoletani sono tutti attori e quindi ci sanno fare veramente, io capisco molto poco di quando parlano in napoletano, devo dirgli, sapete, non ho voluto imparare il napoletano e tra l'altro quando mi parlo in napoletano e non capisco, per non fare la figuraccia, dico, ma parla italiano perché se no poi nella vita non riuscirai, ma stentano a parlare italiano, stentano veramente, non ce la fanno, perché? Perché a casa si parla così e quindi, e di fatti uno dei problemi nella scuola, specialmente nella scuola primaria, è proprio il fatto che delle maestre non riescono a insegnare l'italiano a questi ragazzi. Tra l'altro, problema scuola, noi abbiamo il 30% dei bambini in età dell'obbligo che non raggiungono il diploma, la terza media per esempio, e il primo anno delle superiori abbiamo un buon 30% che abbandona e magari si iscrivono dopo un mese e lasciano. Ora, proporzioni del genere, voi immaginate a che cosa sono destinate e quindi è abbastanza facile per la rete, diciamo, della Camorra di assoldare questi ragazzi fin da quando sono bambini, da quando sono piccoli. E questo aspetto della Camorra è un fatto molto serio molto importante che però non si risolve localmente lì. La Camorra è un problema nazionale come la mafia, come l'andrangheta, soprattutto per gli interessi che si sviluppano attraverso il riciclaggio del denaro sporco. E questo denaro è tanto, è veramente tanto. E allora sappiamo che i canali di investimento arrivano a degli imprenditori, arrivano a delle attività commerciali, ai supermercati, ai centri commerciali, all'outlet, eccetera. Sappiamo benissimo che sono tutte esperienze economiche di impresa che si reggono su questo denaro. E quindi è una rete. Diciamo che i ragazzi sono l'anello debole di questo sistema, ma è un sistema forte. è un sistema che per esempio assicura alle famiglie di chi è in carcere una pensione settimanale. Fra le 200 e le 250 euro viene dato alla moglie di uno che sta, poi viene pagato l'avvocato. C'è tante garanzie, tanti sistemi di assistenza garantita che permette il proliferarsi di questo fenomeno gravissimo. Ma ne parlavo prima, che lui fa pure il sindacalista mi sembra, vero? L'avvocato? Ah beh, vabbè, meno male. No, no, perché uno dei grossi problemi nostri è che le grandi imprese del nord che vincono gli appalti a sconto, no? Abbassando la quota per cui vincono, per poi rifarsi il denaro affidano a delle piccole ditte del casertano, del napoletano, i subappalti, per imprese che riguardano pure il nord, perché sull'alta velocità c'erano piccole imprese napoletane che venivano a lavorare. La durata media, fra un mese e mezzo o due mesi, poi improvvisamente fallisce questa piccola impresa e uno rimane senza nulla. Assicurazioni, non se ne parla nemmeno a segni familiari, non si sa nemmeno che cosa sia. In tutto questo discorso, educare al lavoro è controtendenza. Allora ecco, da una parte l'educazione, perché possano riscattarsi, come Don Milani diceva, attraverso la parola, ma anche una formazione, un'educazione al lavoro. E questa è stata l'impresa più difficile per noi, perché attraverso la sperimentazione di due iniziative, una di sartoria, una di legatoria, cartotecnica, restauro del libro, stiamo avviando e qualche cosa si sta realizzando sul piano del lavoro. Ma per esempio abbiamo fallito con gli elettricisti, perché fare un preventivo che inseriva l'IVA, c'è una parolaccia l'IVA, non si può dire, scherziamo, e quindi niente, non si riusciva a sbloccare questo meccanismo perverso del lavoro nero, del lavoro sommerso, che fa illudere di guadagnare di più, però di fatto l'arte dell'arrangiarsi porta molte persone di fatto a non imparare mai un lavoro. Ecco perché stiamo tentando proprio un piccolissimo modello, si tratta di 4, 5, 6, 8 donne, ragazze, che imparano a fare le sarte, e abbiamo un piccolo laboratorio di sartoria, e la cosa è difficilissima, difficilissima perché loro, non so, c'è un ordine, dice 50 perché si sono specializzate in borse, di stoffa bellissime, beh che cosa fanno? Ce ne servono 80 un ordine, quando sono arrivati a 50? Ma bastano 50, e così la volta successiva perdono la commessa, oppure per venerdì ci dovete consegnare delle attività, non so, delle tovaglie, altre cose che fanno, dei sacchi letto, ma rimandiamo a lunedì. C'è questa approssimazione, questa difficoltà di concepire il lavoro come qualcosa che va programmato, va progettato, e va organizzato sia per i fornitori, sia per i costi orari, sia per la consegna, ecco. Questi sono problemi culturali profondissimi, profondissimi che se nessuno si mette un pochino ad aggredirli sul piano sistematico, anche di progettualità politica, saranno sempre il motivo fondante strutturale di un disavanzo. E' per questo che dico e bene fanno gli studenti del Mediterraneo. Quali sono fra di voi gli studenti che vengono dal Sud? C'è una buona parte. Voi dovete tornare al Sud a portare non l'Accademia di Bologna, ma soluzioni anche politiche che possano modificare, modificare questo sistema, questa struttura, che è una struttura di potere fortissima, fortissima, dove la connivenza fra un potere cosiddetto pulito e il potere sporco è una connivenza che non ha, diciamo, fratture. Noti la continuità, la noti per i finanziamenti, la noti anche per la mancanza di investimenti seri, investimenti puliti. La borghesia napoletana non investe, si compiace di una rendita parassitaria dovuta a quelli che sono stati i grandi accumuli immobiliari degli anni di Lauro, non so se ne avete sentito mai parlare. Ecco, quando hanno invaso il Vomero, quando hanno invaso zone che erano bellissime, Napoli è una città deturpata da un sistema urbanistico senza controllo e così anche le periferie che sono vastissime, sono 3 milioni e mezzo gli abitanti dell'inderland napoletano e quindi è ingestibile una cosa del genere, no? Ecco, cosa fare? Fare educazione, fare formazione e offrire piccoli modelli di riscatto, piccoli modelli di uscita da un sistema e mettendo insieme, ecco la cosa che secondo me può essere un'ipotesi vincente, mettendo insieme gli opposti, io per obbedienza sono stato incaricato pure di fare il rettore di un liceo scientifico e classico al centro di città, che cosa sto facendo? Sto facendo per esempio un corso di giornalismo, i ragazzi bene della borghesia napoletana con i ragazzi di Scampia, ora per esempio a Revuoto un progetto di Punta Corsana, un progetto di teatro, i ragazzi di questo istituto pontano si troveranno a fare teatro con i ragazzi di Scampia, è una scommessa, chissà cosa mi diranno le mamme, tanto le parolacce le dicono pure quelli della buona borghesia, non c'è problema, però ecco, se non facciamo un ponte, se non mettiamo in crisi questa separazione illusoria e perversa che fa sì che appunto chi ha delle grandi risorse economiche, perché a Napoli ci sono, non ha il coraggio di investire per sollevare situazioni che potrebbero essere sollevate, pensate che nella nostra città di Scampia non c'è uno sportello bancario, non ci sono supermercati, non c'è un cinema, non c'è nulla, dico perché non vengono a investire per fare un'attività? Chi di voi a patrimoni illustri venga a investire? Ecco, credo che i problemi sono molto banali da una parte ma molto profondi e molto forti, ecco, manca anche una progettualità politica che poi alla fine fa sì che ci sia sempre il piccolo capotaggio, risolvo il problema immediato ma poi si ripresenta e sarà sempre più grave perché se non lo risolvi, diciamo, in termini progettuali si ripresenterà sempre con più forza. Chiudo dicendo che un altro aspetto che attraversa tutta la nostra nazione è il discorso dell'impunità, è il discorso della legalità e del sistema, diciamo, sommerso di una scorrettezza civile che pervade. Ecco, non c'è solo il problema del lavoro nero, c'è anche del malcostume, diciamo, fiscale, del non rispetto delle regole e purtroppo i modelli nazionali non ci aiutano a un percorso di maggiore correttezza. Di fatto però questo è uno dei problemi grandi perché molta della popolazione del nostro quartiere attraversa il carcere. Ecco che allora anche lì io ho imparato a lavorare alla dozza con i detenuti e è stato facile per me entrare a Poggio Reale o a Secondigliano. Però se non si risolvono questi problemi anche per un'applicazione di una vera riscossa, di un vero riscatto anche del colpevole che una volta che ha pagato la giustizia possa reinserirsi in modo onesto nella società. Per Napoli questo è quasi impossibile e questo è uno dei punti più dolorosi perché in effetti ci sono quelli che io li visito in carcere e si dichiarano disponibili a uscire dal sistema e soprattutto lo fanno per i figli e questo è un fatto molto importante perché il senso della paternità, della maternità a Napoli è molto forte. Però poi se non c'è una prospettiva diversa rientrano nel sistema. Un'altra cosa bella è lavorare con i figli di questi detenuti e diciamo che forse il risultato maggiore è quando in un gruppo per esempio di doposcuola o di teatro o di scout c'è il bambino che c'è il papà detenuto, la bambina che c'è il papà o la mamma detenuti e nello stesso gruppo c'è il figlio dell'ispettore di polizia oppure il figlio del carabiniere. Loro riescono a non dirsi sei un fetente, sei uno sbirro, sono ancora piccolini. Però anche questo vuol dire smontare dell'immaginario e costruire dei percorsi che possano partire proprio della capacità di capirsi, di mettersi in relazione. Ecco piccoli gesti, piccole cose che mi vedono perdente, ve lo assicuro, ma non ho paura di perdere e questo credo che sia un'altra cosa importante nell'educazione. Intanto non devi aspettarti i risultati immediati e poi sai che sono più forti. Sai che ti possono continuamente anche dir male. Uno dei processi più soliti in certi ambienti è parlare male della gente, il fango. Non so se avete visto quella trasmissione di Saviano. La calunnia attraversa come sistema tipico, chiaro, preciso. Ma questo perché lo dico? Perché quando tu investi in un'operazione che vuole cambiare la coscienza della persona non la puoi comprare, non la puoi manipolare, non la puoi sistematicamente imbottire di modelli che come sono quelli che una certa cultura in Italia sta oggi proponendo in modo prevalente. Ecco per questo dico, chi vuole fare un discorso anche di riforma, di cambiamento, deve saper perdere. Perché solo se perdi puoi pensare che anche la persona che è più prepotente a un certo punto si possa scontrare con una novità. In un ambiente dove tutto è pagato, essere gratuiti può sbilanciare la coscienza delle persone. E credo che questo sul piano culturale, il concetto della gratuità, sia tanto importante, perché può veramente toccare non tanto i processi cognitivi, ma può toccare la sensibilità più profonda di una persona. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Scherzo, fare sei al Super enalotto più la scuola, perché altrimenti non se ne esce. No, scherzavo, ovviamente. E dicevo che la vita di questi ragazzini di Napoli, come quelli di Palermo, quelli della Costa Ionica, di Platì, di San Luca, sono ragazzini che provengono da determinate famiglie e c'è una differenza. E poi forse alla fine non sono differenze sostanziali, nel senso che i ragazzini di Scampia vivono senza un papà, vengono su senza la figura paterna, senza una famiglia che gli stia dietro in maniera normale. E mentre la cosa strana è che per esempio in Sicilio, in Calabria, ma io parlo della Calabria, sono ragazzini che vengono fuori da famiglie assolutamente normali, con un papà, con una mamma, in un ambiente sociale, tra virgolette, normale. E però poi il destino finale è quello, perché il modello sociale, il modello familiare è un modello che basa la crescita sulla prepotenza, basa i successi sulla prepotenza, il successo economico, il successo sociale sulla prepotenza. E quindi poi il risultato non cambia. Magari un calabrese, un bambino calabrese si drogherà di meno di un bambino di Scampia quando sarà grande, però non per niente dico, io dico che la condizione familiare del futuro criminale calabrese del ragazzo è importante, perché in effetti i calabresi poi sono quelli che a livello di mafia internazionali sono i più rispettati, perché sono i più seri, sono quelli che prendono un accordo per il pagamento della cocaina, dell'eroina e lo mantengono. Sono i calabresi a garantire il traffico per i napoletani, sono i calabresi a garantire il traffico per i pugliesi, addirittura per i siciliani. E quindi abbiamo detto di questa evoluzione assolutamente, ed è un'evoluzione secondo me che ha anche una radice della formazione familiare, perché assolutamente la serietà dei comportamenti di questi narcotrafficanti, ma credo di qualunque tipo, che si fidano più dei calabresi perché sono più precisi, ha sicuramente un'origine sociale questo problema. Non voglio parlare di quello che io penso della politica nazionale o della politica locale, perché ovviamente è importante che chi studia fuori, i meridionali che studiano fuori, i ragazzi, possano, non debbano, possano tornare a lavorare nei propri territori di origine, ma non è facile. Io ci ho provato, ho mollato, chissà se ci riproverò, perché ti scontri con un'offerta che è assolutamente insufficiente. E quindi io parlavo oggi con un ragazzo, con un calabrese, un ragazzo di una famiglia mafiosa, che ho fatto venire su per dire vieni su, prova a cambiare la tua vita, questo mi sta ascoltando, con tutti i miei dubbi, ma io cerco di agire su questi ragazzi che non sono più tanto ragazzi alcuni, hanno 30 anni, 40 anni, però sono laureati, e gli ho detto vieni a trovarti un lavoro, a cambiare un attimino la tua esistenza, la tua vita, e certo si scontra con una realtà diversa al nord, perché per quanto si possa dire che l'Italia è divisa, che l'Italia eccetera, poi c'è, io ho trovato al nord, ho trovato molto sostegno, ho trovato delle persone che nella loro tranquilla quotidianità, modesti, eccetera, mi sono stati molto vicini pur conoscendo la mia origine, e dico, questi ragazzi si trovano completamente, poi spiazzati, perché immaginano di trovare una società molto competitiva al nord, che li escluda, che li fa, invece trovano delle persone normali, che li ascoltano, per cui a volte io non capisco la Lega per la verità, perché poi la realtà è tutta differente, io sono nel Cunese dove la Lega è uno dei centri di potere maggiori, con una percentuale esagerata, intorno al 45%, una cosa senza quella presente della provincia e della Lega, eccetera, però tu trovi davanti a te delle persone che discutono dei tuoi problemi, cercano di darti una mano, e io punto molto su questo sconvolgimento che può generare un confronto di questo genere, tra un ragazzo meridionale di una certa origine e l'ambiente nuovo in cui si va a trovare. Allora questo ragazzo mi diceva, ma io non immaginavo, non pensavo di trovare tanta solidarietà, persone che mi ascoltassero, perché la competitività in meridione, in determinate condizioni, in determinate ambienti, è talmente, dico, forte, talmente spietata, che anche i rapporti interpersonali poi ne risentono, ovviamente, per cui uno si sente circondato da ostilità, eccetera. Essere bambini, io prima dicevo, i bambini dei detenuti con i bambini degli agenti di custodia, piuttosto che con i carabinieri, intanto si giocano insieme e si danno le confidenze. Io rido perché anch'io giocavo insieme col figlio di un maresciallo, però fino a una certa età poi ci siamo, anzi lui mi ha insegnato a giocare a ping pong in maniera incredibile, però poi non ci siamo più frequentati da una certa età in poi, perché io ero figlio di un boss e lui era figlio di un maresciallo dei carabiniere e non ci potevamo frequentare. Non mi sono potuto fare fidanzato con la figlia del farmacista, perché non era possibile, perché io ero figlio di un boss. Insomma, sono tutte queste dinamiche che ti escludono completamente da una certa parte di società, per cui poi sei portato a ragionare in termini differenti, ma se mi accetta una parte, io vado dalla parte, sono spinto ad andare dalla parte che mi accetta e quindi non solo mi riconosce come suo membro, ma accetta me stesso. E invece in continuazione andare contro tendenza, cercando di inserirsi in un contesto sociale che comunque ti rifiuta, alla fine, e ci vuole tanta pazienza. E queste sono delle cose su cui riflettere anche, su cui gli educatori devono riflettere parecchio. Certamente io ho letto della sua esperienza a Napoli, e che è davvero difficilissima, perché io credo che in un certo senso è facile seguire i ragazzi fino a un certo punto, poi si perdono, perché sicuramente questi ragazzi, io non so quanto se ne ritrova poi in età, non dico adulta, ma 16-17 anni, io credo che poi se ne ritroverà pochi. E' un meridione che sotto questo profilo è completamente sconquassato, dico io, sotto il profilo sociale, sotto il profilo del lavoro, non c'è una progettualità politica, non c'è niente. Dovrebbe... un meridione che ha perso in cent'anni qualcosa come... dico 6-7 milioni di persone per l'emigrazione, c'è 3, 4, 5, 6 generazioni che vanno via, e che cosa rimane? Rimane la forza di chi sta là con la prepotenza, rimane la forza di chi fa politica per determinati interessi. E quindi è un po' tutto da rifondare, e non mi ficco in questo discorso, perché è davvero molto complesso, e ne abbiamo parlato qualche volta con Don Luigi Ciotti, è davvero complesso. Lui ha questa visione ed ha fatto tantissimo, e sta facendo tantissimo, però davvero ficcarsi in questi discorsi è complicatissimo. Niente, io vorrei terminare con una riflessione. Mi domandava il giornalista Votano, e mi dicono, ma tu pensi di esserne davvero uscito da questa tua... E beh, a volte ho dei dubbi, e dico, ma per ora ne sono fuori, perché sto lavorando, ho intenzione di starne fuori completamente, ma dentro di me a volte sento questa bestia che mi mangia l'anima, e sono sempre lì a ricacciarla dentro con la frusta, dico, ma stai buona perché ho altre cose, io per la testa, per i miei figli, eccetera, ma a volte mi domando, quando mi è successa questa esperienza tre mesi fa di mio cugino, e beh, ci ho messo tantissima pazienza, tantissima forza per non saltare fuori dalla macchina, perdonatemi, prenderlo a calci. Ecco, se fosse stato, non il dottor Carrozza, ma Vincenzo Carrozza, l'avrebbe già fatto, cioè non ci avrebbe pensato un attimo. e però sono io, con tutti gli sforzi fatti negli anni per essere un uomo differente, e mi chiedo a volte, dico, ma sono stato davvero fortunato io, perché quando sono là là, per arrabbiarmi c'è qualcosa che mi tranquillizza, c'è qualcosa che mi calma, perché penso ai miei trascorsi, penso e soprattutto a chi mi è stato vicino in questo percorso, penso a padre Giancarlo Bregantini, penso a tutti gli amici, penso agli sforzi, ai progetti che abbiamo fatto con gli amici giù, con Valle del Buon Amico, per cercare di questa cooperativa, per cercare di tirar fuori dei ragazzi con il lavoro, attraverso il lavoro agricolo, attraverso i beni confiscati, da un certo ambiente, e anche lì è difficilissimo, anche lì è difficilissimo, perché non sai mai chi ti trovi di fronte. Abbiamo avuto dei ragazzi che hanno lavorato, che però sono stati riarrestati, e ancora i processi non si sono conclusi, alcuni non sono nemmeno iniziati, per cui non sai davvero, essendo poi dei garantisti, come è giusto essere, alla fine, se questi ragazzi hanno nuovamente avuto uno stop nella loro esistenza, oppure hanno davvero fatto qualcosa di male, staremo a vedere. Certo io parto dal principio che quando c'è un arresto, quando la giustizia punta gli occhi su una situazione, su una persona, ha dei buoni motivi, per quanto sia garantista, io penso che ci sia un problema, perlomeno da chiarire, e quindi questa fiducia, a priori, bisogna darla alla giustizia. Che tra l'altro, se si escludono i magistrati che giornalmente combattono in questi territori, io non vedo politica che combatta, in questi, al di là dei proclami, dei ministri, degli interni, che parlano di vittorie, Sciascia diceva, ma ci vorrebbe, ma lo diceva vent'anni fa, trent'anni fa, diceva, ma ci vorrebbe un ministro degli interni altoatesino, noi non ce l'abbiamo, un ministro degli interni altoatesino, ma ce l'abbiamo, del nord, però, è come se fosse siciliano, cioè, poi alla fine, il potere, il potere, è qualcosa, la gestione del potere, la gestione di interessi economici, è qualcosa che stravolge anche l'origine altoatesina. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Questi due libri, vi dico la struttura semplicemente, Figli di Bosso sono le storie di ragazzi, di amici miei, con i quali andavo all'università, con i quali sono andato alle elementari, e con i quali sono andato alle medie, figli di, davvero di boss importanti della Calabria, di quelli che oggi hanno portato in negativo alla Calabria a essere la number one delle mafie internazionali. E questo è un libro che amo, e questo lo amo di più, perché è dei morti innocenti della nostra terra, di quelli che pagano per essere appunto innocenti, per un loro rifiuto, e sono davvero tanti. Io stesso ne ho contati 30 in questo libro, ma ne sono a centinaia. Grazie. Sulle vittime sulle vittime innocenti, purtroppo sono quasi 800, e ogni 21 marzo io dico solo della Locri, si ricordano? Quelle di cui si conosce il nome, purtroppo, e ogni anno il 21 marzo vengono ricordate, leggendo i nomi di continuo, ogni anno in una città diversa del nostro, giorno della memoria, e dell'impegno. Proprio in ricordo delle vittime di mafia, che è uno degli aspetti importanti di coinvolgimento dei familiari, anche per dare un messaggio di speranza e di partecipazione, perché altrimenti nel dolore si rischia di inchiudersi, mentre un familiare di vittima, uno che è stato toccato nel profondo dalla mano criminale, deve essere al servizio di questa comunità e impegnarsi e trasformare il dolore in impegno, altrimenti perdiamo tutti. Quindi mi ha dato il via per chiudere l'incontro con una poesia finale. Pietro e Fortunata Pezzimenti erano fratello e sorella e andavano all'università di Messina, uno studiava legge e uno studiava medicina e sono stati uccisi una sera entrambi mentre tornavano a casa proprio dall'università. L'intervallo tra lo sparo e il dolore è infinito silenzio e l'attimo in cui dentro percepisci che la tua vita si dissolve. gli occhi si spengono nell'ultimo sforzo di capire è stato così per me e mio fratello nella curva di ritorno da scuola. Grazie.